e che adesso devo andare fra un po' che c'è ed è mio quello cosa devi fare devi andarlo a cambiare vuoi un passaggio ma non adesso dopo vedo ma vengo te lo dico dopo ti dico qualcosa è che oggi ho dormito tre ore stamattina ma devi oggi oggi no domani no domani ti dico io pomeriggio no ti chiamo io domani sicuro è che questa cosa mi ha sì adesso pomeriggio sono due settimane che dormo tre ore perché ciao scusa anzi